Troppo caldo, alla strada. Sono abiti a Ponte Corone. Abiti a Ponte Corone? Si. Grazie mille. Ci sono arrivati a Ponte Corone. Iniziamo. Dopo che ci siamo arrivati a la strada, ora ci siamo tornati a Ponte Corone. Ora ci siamo passati a Ponte Corone per andare al Ponte Corone. Ora ci siamo passati con un po' Seessi dovemo andare al Ponte Corone, però si è arrivato a pipe, siamo arrivati a Ponte Corone. E' la piattazza. Abbiamo arrivato a Ponte Corone. E' arrivato a Ponte Corone. questa è la chenthra oggi è un bacino questa è la chenthra questa è la chenthra questa è l'abitazione di questa roma e un concetto di 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 roma E' un po' di più. Siamo facendo un po' di più 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 di più. Siamo iniziando a Alessandria, Tartona, Milano, Crescato, Girona. Siamo iniziando a andare a Tchentro, Vestinuobo, e poi continuiamo a continuare a questa. Questa è una buona, abbiamo iniziato a Ponte Corone e Sacolo, e la città di Torrtona, e la città di Crescato. E' un po' di più, come la città di più, come la città di più di più di più. Questo è il carino in Castenuoso. E' un caatto. Che pensi è costante. Stiamo ai confronti per il carino In Castenuoso. molto bello facciamo un foto che non si vede a fare un'altra parte e non si vede a fare un'altra parte e non si vede a fare un'altra parte va bene molto bello C'è una volta che ci vediamo la scuola e non ci vediamo che ci sono le quali. Il nostro gioco è la scuola del colomitore. Questo è il gioco di un gioco. Il gioco è la scuola del 5 km. ciao ciao la strada di Sali 5 km grazie come si è riuscita come si è riuscita come si è riuscita come si è riuscita no, non è riuscita la strada di Sali la strada di Sali la strada di Sali e il giro la strada di Sali e qui è riuscita e qui si è riuscita in un'inferno con quello ci sono la strada di Sali è che mi ha fatto e 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 che mi ha fatto andiamo a andare a strada di sale a disse vicino a che era non sono in grado di sale sale adesso siamo in grado di sale e si è in grado è in grado di sale in grado di sale in grado di sale e non sono in grado di sale non sono in grado di sale e abbiamo fatto un pochettino è troppo caldo è fatale? sì è fatale? questo? è questo perché il sole è fuerti è difficile sì sì è fatale? sì è una grande bottiglia d'acqua io vivo alla strada sono abiti a Ponte Corone abiti a Ponte Corone? sì e sei venuto di Ponte Corone a piedi? sì a piedi hai qualcuno di qua? non sono venuto correre ah faccio sport sport come ti chiami questo? grazie 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 mille grazie ok grazie la qui qui è grazie la appassare i Ponte Corone ora c'è un po' di farbata a scolomit P10 e Mellercic adesso va bene a ragione è una volta, il rinno e il rinno per la crema che stai con la crema la crema per la crema un'altra crema qui si è un'altra è stata una crema qui è un'altra è stata una crema Finalmente sono arrivato a Ponte Corone E guarda il marzo Questa è l'argomento a uscire E' un'argomento a uscire Arrivederci E' un'argomento a uscire E' un'argomento Sì Grazie per la visione!